Proprio poco fa abbiamo dato una sbirciata al palco, un palco veramente galattico, a noi proprio i Pink Floyd ci sembrano una banda di liscio. Sì, in effetti solo una banda di liscio, no, sto scherzando chiaramente. Beh, il palco è molto più grande rispetto alle produzioni che abbiamo avuto fino ad oggi, è un impegno, è un impegno che abbiamo dovuto assolvere, anche pensando che dobbiamo affrontare gli spazi che sono grandi, sono a Milano il Forum, a Roma il Palaeuro, sono spazi che richiedono comunque una struttura di un certo tipo, siccome non potevamo usarne una e poi un'altra in altre situazioni, giriamo sempre con questa, che comunque comporta il movimento di una cinquantina di persone, e comporta sicuramente anche un dispendio di energie notevoli. L'organizzazione ci sembra iper-efficiente, la inauguriamo questa sera, vediamo alla fine del concerto se tutto funziona come da copione. Questa è la data più vicina a Prati di Casa, no? O sbaglio? Sì, questa è la data più vicina, è una data che segna tutto sommato il ritorno, nel senso che per un anno avevamo deciso di non suonare a Reggio e Modena, non per farci desiderare, ma perché avevamo la sensazione di aver esagerato con i concerti che avevamo fatto fino all'anno scorso in zona, e niente, speriamo che stasera sia una serata interessante. Se potessi scegliere quale notizia avresti sentire annunciare tra poco dal conduttore? La notizia che mi farebbe piacere sarebbe quella di una notizia devastante, e sarebbe sappiata che la classe politica in toto ha deciso di togliersi dai piedi perché si è presa a pieno la responsabilità di tutto quello che è successo in questi ultimi anni, e a questa ne subentrerà una nuova che perlomeno parte da zero, quindi parte da un principio di università che è consolidato.